C'è qualcosa che stona nelle dichiarazioni dei colossi farmaceutici? Perché Moderna annuncia che contro Omicron servirebbe un nuovo vaccino. Pfizer e Biden, invece, il presidente americano, dicono che bastano i vaccini esistenti. Le borse vanno su e giù sulla dichiarazione di un esponente di una casa farmaceutica. Cosa sta succedendo? Il vostro sottosegretario, in studio, ha appena spiegato che i dati non ci sono. L'unico paese che ha dati, che sono molto parziali, è Israele. E ne hanno pochissimi dati. Sulla base dei loro dati, tutte le dichiarazioni fatte da aziende non contano affatto. Le aziende sanno quanti vaccini producono. Non hanno nessun dato dei loro risultati. Hanno le ammentele, i rari casi di miocardite. Quelli che hanno i dati, fino adesso, non hanno trovato niente in riguardo della capacità di proteggere contro Omicron o proteggere nel senso di non morire, di non essere ospitalizzato, non essere intubato o non avere sintomi. Tutto questo non si sa. Grazie.